Sono Riccardo Dideo, ho 22 anni e sono candidato nella lista Cittadini Consapevoli a sostegno del sindaco uscente ricandidato Leo Castiglione. Il mio impegno per la nostra città sarà quello dell'ascolto delle problematiche, delle esigenze dei cittadini a 360 gradi su tutto il territorio del nostro comune. Partendo dalle frazioni dove io risiedo e dove voglio che le condizioni che sono già migliorate in questi cinque anni di amministrazione siano sempre migliori. Un ascolto delle esigenze delle attività commerciali, degli imprenditori, delle partite IVA, degli agricoltori che danno lavoro e portano ricchezza al nostro territorio. Un'economia che grazie all'aiuto del comune deve ripartire dalla pandemia, dagli eventi bellici che stanno colpendo duramente i nostri settori. Grazie a questa amministrazione tanto è stato fatto, tanto si potrà continuare a fare. La mia persona sarà sempre al servizio di voi cittadini, sempre al servizio delle vostre esigenze e delle richieste che mi farete.